Benvenuti in uno speciale trilogia consecutive, dove oggi analizzeremo la trilogia dei prequel del pianeta delle scimmie. Cominciamo! Il primo film è il meno personale e il più commerciale della trilogia, e ha il compito di introdurci alla storia presentandoci i vari personaggi. Ma riesce a trasformare questo in un pregio e fa il suo compito in maniera quasi perfetta. Il design delle creature è fenomenale, così come gli effetti speciali che sono ben dosati nelle scene d'azione, senza che quest'ultimi gravino su di esse, scene d'azioni coinvolgenti e ben supportate da un grande carisma sia dei personaggi sia della storia in sé, che, anche se in maniera molto meno marcata degli altri capitoli, mantiene la sua critica all'uso spropositato della scienza e dell'uso di essa da parte degli esseri viventi per scopi personali. Uno dei pochi difetti lo si può trovare in un villa non particolarmente riuscito. In ogni caso, primo capitolo ben fatto. Il secondo capitolo è il più riuscito. Da questo punto in poi la trilogia prende una svolta interessante, diventando a tutti gli effetti un film post-apocalittico. Se vogliamo una rivisitazione, o omaggio, alla saga di Romero sui morti viventi, una delle migliori di sempre. A partire dal titolo, l'alba del pianeta delle scimmie, l'alba dei morti viventi, il titolo originale del capolavoro dei zombie. Se ci pensiamo, le scimmie, così come gli zombie, sono creature considerate da una specie umana inferiori, quando invece hanno un'umanità non indifferente. Il film abilmente non si schierà da nessuna delle due fazioni, facendo commettere errori da entrambe, che porteranno a morte e distruzione. La messa in scena è suntuosa, e stavolta il cattivo è grandioso, così come il finale, che lascia senza speranza. Da notare come le scimmie, proprio come lo zombie Bub, nel capolavoro immortale Il giorno degli zombie, impara ad usare le armi dagli umani. Il terzo film conferma sia la qualità della trilogia, sia la cupezza, ma anche la tenerezza di essa. Il film espande il discorso fatto nel bellissimo l'alba del pianeta delle scimmie, arricchendolo con citazioni e altre tematiche, come la diversità e un certo tipo di razzismo, che porta alla follia attraverso un villain atipico, lucido nella sua pazzia, ma ben diverso, ma di uguale potenza, a Coba, il villain del precedente capitolo. Il film con dei ritmi rallentati, ricordando il western anche nelle motivazioni dei protagonisti, che sono spinti dalla vendetta, dopo un inizio fulgorante si discosta molto degli altri due film, eliminando quasi del tutto gli umani, mettendo bene in evidenza quanto sia l'abile confine tra bene e male, che verrà spesso messo in discussione. Finale geniale, un film esplenino, ma che forse esagera, con la cupezza e il pessimismo, risultando a volte troppo pesante. In ogni caso una trilogia che eleva il livello del blockbuster a mezzi capolavori.